Ma di meno, come si fa? Se mi riesci, noi ci stiamo da cazzo il paraccio. Quando ero tutti a Firenze. La prossima dobbiamo fare una rapina. Una rapina, una rapina. C'è una massima per fare la salumeria a rapina. Due mozzarella e quattro fette di specchio. Voi c'hai scritto, va? Oh, vannaggia, ho chiesto. Sono pippato, ma grazie a voi. Ragazzi! Ragazzi, non stai qui. Vaglio, vada a Susana. Adesso c'è l'inizio. ...e attraverso nella barra... ...e attraverso nella barra... ...quindi sfronte. La solle è veloce, l'avete in inizio è immediata, improvvisa. Seguro un paio di amici. Allora, verso il centro... ...e l'entra, è incredibile! Al tuo amico, dalla fine, esplode il senso dei ospiti!